Ragazzi, allora, se sentite della musichetta di sottofondo, non sono io con l'editing, sono quelli di giù con Radio Maria Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special, e sì, un bel like anche per sottofondo musicale, grazie mille, grazie mille cari vicini E detto ciò, vi ricordo alcune cose, devo comunicarvi alcune cose, innanzitutto, di passare il link in descrizione, dove trovate ad esempio anche il link per scaricare OneFootball Oltre che i miei social, appunto, c'è il link per scaricare OneFootball, l'applicazione che vi terrà aggiornati su tutto il mondo del calcio, è gratis E, come detto, per noi fattori allenatori, è essenziale sugli infortuni, adesso vi mostrerò anche un articolo, mi raccomando Ci vediamo anche in live, ragazzi, più tardi, alle 14, prima qui su YouTube e poi su Twitch, quando ci trasferiremo lì Quindi mi raccomando, non vi perdete la live, ok? Non ve la perdete Detto ciò, andiamo a vedere, anzi, voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto la sub, ovviamente gratuita, con Amazon Prime si può fare gratuita Sul canale Twitch, quindi ci vediamo in caso alle 14, per chi la volesse fare, così entra nel gruppo Telegram degli abbonati Allora, 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 andiamo a vedere l'articolo che vi ho preparato, riguarda Ozy Man, ragazzi, Ozy Man Io ho avuto la fortuna di scambiarlo di recente in una Lega, però addirittura stop prolungato, veramente sfortunato Sia lui che anche i fantallenatori che ce l'hanno qui, ha spiegato anche un po' tutta la situazione legata anche allo staff, no? Nigeriano, lo staff medico che, insomma, non ha messo forse il Napoli nelle condizioni migliori per quanto riguarda l'infortunio, diciamo, del giocatore Quindi, attenzione, monitorate la situazione e restate sempre aggiornati tramite, come detto, OneFootball Lì io vi lascio, come detto, il link è in descrizione, scaricatela gratuitamente, va bene? Stiamo attenti, dai Andiamo a vedere i marcatori che avete beccato la scorsa giornata I più strani sono stati Letizia, beccato da Giuseppe Maurizzi e da Leone Studios Che hanno beccato tutti e tre i marcatori, cioè Sicuro Immobile, Exquaglia e Improbabile Letizia Complimenti a Giuseppe E lo stesso Leone che becca Sicuro Morata, Exquaglia ed Ignorante Letizia Quindi complimenti E l'Exquaglia l'ho beccato anche io, effettivamente, sì, era uno dei più probabili ex E complimenti, appunto, per aver beccato Letizia Ma volevo anche premiare Mustia che ha beccato, oltre che Sicuro Immobile, Exquagliarella L'Ignorante Gagliardini, dai, meritava anche Gagliardini, sinceramente Poi, andiamo adesso ai marcatori di questa giornata Passiamo agli ignoranti, ho messo Cáceres, ragazzi, ma da quante che non segna Cáceres? Da un bel po', e quindi l'ho voluto Perché lui è così, ogni tanto se ne esce, no, con quel colpo di testa sui calci d'angolo E quindi io ho detto, ma perché effettivamente non inserirlo in questa serie? E quindi, ecco qui, il buon Martin Cáceres Lui è forte, oggettivamente, di testa Nei calci piazzati Quindi, chissà che non riuscirà effettivamente a metterla dentro Ovviamente, insieme a lui ci sono anche Milenkovic, Barzella Che sono comunque anche altri bravi colpitori Ecco, su pallina attiva Quindi, chissà che non venga Non avrà appunto fuori un bonus da un difensore della Viola Questa è la mia sensazione Poi, non è che la Fiorentina magari avrà chissà quanti calci d'angolo a favore Però, comunque, è una mia sensazione Così, così, lo butto lì Poi, altro nome un po' improbabile È Faraoni Voi, ovviamente, lo schierate come difensore Finalmente è tornato dopo il lungo infortunio Un infortunio, comunque E vedremo se potrà portare dei bonus È un giocatore che, comunque, si spinge sempre in attacco Ok, praticamente fa l'ala offensiva più che il terzino L'esterno del centro gamma Quindi, avrà, secondo me, qualche chance per Magari mettere gli attaccanti, comunque, i compagni In condizione di metterla dentro Oppure, proverà lo stesso il tiro C'è una particolarità di Faraoni Molti non se ne accorgono Che, a volte, è in zona quasi cross Però, vede, magari, il portiere Non proprio attento e concentrato E calcia Da posizione molto defilata Proprio per sorprendere il portiere È una cosa che io vi so fare più e più volte E, in alcuni casi, è anche riuscito Una volta ha colpito anche l'attraverso Una volta ha impendito il portiere Una volta, forse, addirittura ha segnato Se non ricordo male L'anno scorso Non vorrei dire cavalata Ma è una cosa che tenta spesso Quindi, attenzione Anche da questo punto di vista Poi, altro nome è quadrato Perché ho messo quadrato? Perché lui Ha una particolarità Con il Torino Fa sempre, di solito, partitoni Cioè, una volta ha segnato L'anno scorso, mi pare, abbia fatto L'assesso, comunque, un'azione straordinaria Insomma, è sempre Diciamo, molto pimpante In questo tipo di partita E potrebbe essere uno dei uomini chiave In questo match È vero che dalle sue parti O meglio, gli esterni Di questa sfida Saranno i protagonisti, secondo me Da una parte, forse, Sing Appunto E dalla fascia destra Della Juve Appunto, quadrato Quindi gli esterni destri E vedremo appunto Se il buon Juan Troverà il modo anche Di portare il più tre Addirittura O magari almeno un assist Vedremo, vedremo Passiamo adesso Agli attaccanti Quindi siamo andati sul classico I marcatori sicuri No? Sono andato sul classico Il primo è appunto Lukaku Credo che col Bologna Ci potrà essere Non dico una goleada Ma Una partita abbastanza netta E Lukaku Potrebbe mangiarsi Un po' i difensori Del Bologna Ok? Quindi Li metterà in seria difficoltà Ha già segnato sette gol Potrebbe farne Almeno un altro Se non addirittura Più di uno Quindi Attenzione al buon Romelo Poi ho inserito Zeko Ed in Zeko Se non segna da un bel po' E infatti dalla E dove è? Quinta giornata Dalla quinta giornata Quindi I fanno allenatori Lo aspettano E vedremo Potrebbe essere effettivamente Una giornata positiva per lui Se lo avete appunto Io lo schiererei Contro la tivisa Solo qualche chance L'avrà Soprattutto vista la brutta prestazione Che ha fatto la Roma Contro il Napoli Credo si rifaranno Magari subito Creando diverse occasioni E magari Non dico che le Sfrutterà tutte Perché lui è un giocatore Perché qualcuno La sprega Qualche occasione La sprega Ma magari uno La mette dentro Poi L'ultimo sicuro È Insigne Insigne perché Contro il Crotone E credo avrà diverse occasioni Lui Così come gli altri Attaccanti del Napoli Non mi aspetto Altri 4 gol Ma comunque Almeno 2-3 Potrebbero venire fuori Lui è anche rigorista Quindi magari Con la vivacità Di Mertens Anche di Appunto di Signe Zilischi E così via Potrebbero conquistarsi Anche un tiro Dal dischetto E potrebbe esserci Isigne Pronto a metterlo Dentro Quindi vediamo Se ci prende Da questo punto di vista Poi E i non marcatori Invece ex di giornata Sono uno Muriel E l'indeciso Tra lui è Zapata Poi le ultime indicazioni Per quanto riguarda le formazioni Davano addirittura Zapata forse in banchina E Muriel titolare A questo punto Ho messo Muriel per questo Un giocatore Che comunque A precedere dal minutaggio È sempre pericoloso Ex di giornata Rigorista Anche Che ci Che ci aspettiamo Ragazzi Lo si schiera Soprattutto appunto Se non avete Alternative valide E Speriamo in uno Suo bonus Ok Poi L'altro ex di giornata È Pellegrini Pellegrini Della Roma Ve l'ho detto L'ho consigliato Questa giornata Ho buone sensazioni Su di lui Anche per un possibile Eventuale calcio di rigore Nel caso in cui Non dovesse esserci Veretù In campo Perché appunto Potrebbe essere lui Magari A calciarlo Ne ha calciato in passato Vedremo Se sarà così O comunque Lo potrebbe portare Anche su azione È vero che Gioca un po' Arretrato Non sulla tre quarti Però comunque Un giocatore Che si inserisce Un giocatore Che comunque Aiuta Anche la manovra offensiva E quindi anche Un tiro da fuori O un punto Di inserimento Potrebbe comunque Farlo E portare Quindi un bonus Che sensazioni A voi avete Ditevele qua sotto Quindi un marcatore Improbabile Uno sicuro E un ex Vediamo chi becca L'improbabile Più ignorante Vedremo Vedremo Sono curioso Ragazzi Detto ciò Vi ricordo appunto Tutti i link In descrizione Il mio store Il link appunto Per scaricare E una cosa Vi voglio anche Mostrare Ve la mostrerò In caso domani Praticamente Mi hanno fatto Un articolo Cioè mi hanno fatto Come io Mi hanno fatto Un'intervista E hanno pubblicato Un articolo A riguardo Io ve lo lascio Già in descrizione Ma domani Nel video di domani Ve lo mostrerò Ok perché Non sono riuscito A prepararlo Per questo episodio Per questo video In caso ve lo mostro Direttamente domani Lo leggiamo Insieme Ok quindi Poi ve lo linko Ve lo linko Comunque già adesso Qua sotto E ne parliamo In caso Domani Va bene Va bene Una buona Fortuna a tutti Ci vediamo Come detto Alle 14 Per Per la live Prima qui su youtube Poi su carni special tv Ok Dai A tra poco Più tardi O se già avete visto Questo A domani Va bene Ciao ragazzi Ciao ragazzi